Non l'ho mai detto quindi sigla! C'è la luna che è enorme e non capisco si starà schiantando sulla terra può essere Beh sarebbe una bella fine E comunque il video di Omigol non esce finché quello che ho messo domenica quindi ieri non arriva a 30 like Facciamo 35, deve salire di like perché altrimenti youtube non... Compro questo bel giubbotto senza applicare... Fermo! Zecento è un'estensione gratuita che puoi aggiungere al tuo computer e ti fa risparmiare centinaia di euro l'anno Quando sei sul carrello di un negozio Zecento applica in modo automatico i migliori codici sconto che trova su internet Boom! Ho appena risparmiato 45 euro e tutto con un solo click Oltre ai codici sconto su moltissimi negozi ottieni anche un cashback che puoi avere Su paypal o tramite bonifico bancario scegli tu Ma come è possibile? Ogni volta che Zecento ti fa risparmiare il negozio gli darà una commissione che Zecento giustamente condividerà con te Non solo ci guadagni tu e ci guadagni a Zecento ma l'1% che risparmi in ogni acquisto verrà devoluto ad un'associazione no profit Per esempio la fondazione veronesi per la ricerca contro il tumore Che fai ancora lì? Corri su www.zecento.com e installa l'estensione con due click Ok premi, premi bravo Clicca, aggiungi Quanti click hai fatto? Due? Bravissimo, proprio due esatto Per ciò che aspetti inizia a risparmiare centinaia di euro l'anno su ogni acquisto e rendi il mondo un posto migliore A farvi vedere i miei video che sono stupendi, meravigliosi, vero? Per chi non lo sapesse sono penso il secondo Eh vabbè, le macchine Allora, domani la mia amica fa 18 anni E quindi essenzialmente posso mandarla a rubare E non ci andrei in prigione io, assolutamente Quindi la sto tenendo amica per questo E poi, eh vabbè, le macchine Poi tra l'altro penso di essere, vabbè, insieme al grandissimo Francesco Zini Che conosco ancora dagli albori del suo... dai levati Dagli albori del suo canale Però sono molto contento che adesso lui abbia 50.000 e passa iscriviti Dai, domani fai 18 anni, non ti senti un po' più risposto? Ma mago, mago, nè Mi fa per niente 18 anni Sono Bear Grylls Corre come le galline Visto quel grosso accumulo di fango? È un accumulo di fango? Questi fiumi sono fiumi Queste rocce Sono rocce Vedete, ogni volta mi faccio una foto quando cerco di registrare perché sbaglio a premere E ora sto facendo questo Informatica Guarda che bell'albero Pazzesco Fuori dalla mia classe, pazzesco E poi lo faccio così, vedi? È nata una volta Mi diventa un po' Ho stra paura Mi diventa un po' 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 no Chi è? Chi è che rompe? Sei tu! Ciao! 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 Sei che sei bello! Sì, sì, non piangere! Sofì! Sofì! Che fai? Vuoi entrare? Ok, entra! Entra! Ciao! Ciao! Sono andato a prepararmi per box, no? Io perché sono di fretta e tutto E il mio cane stronzo si arrabbia con me perché non ci gioco Eh? Perché ti arrabbi? Scusa, ho da fare! Eh, io non lo so, veramente, bisogna essere proprio stronzi come cani, eh! No, dai, scusa, scusa, lo so che mi vuoi bene, scusa No, ehi, non sorridermi Scusa, scusa se non ci gioco adesso con te Ho da fare! Careccia! Ah! Ok, intanto vi racconto quello che ho fatto oggi Che è stato terribile, non ho potuto vloggare Perché il tempo a volte fugge Fugge come una lepreda Non lo so che minchia di paragoni vorrei fare Comunque oggi ho registrato la pubblicità per Zecento Quello che vi ho nominato l'altro giorno Zecento, questa start-up che mi è piaciuta molto come progetto e tutto quanto Ma verrete molto presto se non già in questo video L'avete vista, non lo so, io non prevedo il futuro Prevedo che editerò questo video Mannaggia, sono in ritardo Mannaggia, sono in ritardo No, basta, basta! Non ti piace? Aspetta, va beh, niente No, 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 siccome è che ho una voce del cazzo Sì, è vero Devo parlare un attimino più profondo Sì, così sembri proprio un grandissimo proprio Uno, due, tre Ti metto wide Ciao, mi fai le feste, ciao No, 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 no No, hai fatto una goccina di pipì Oh sì, Isola dei Famosi Evviva, è quel periodo per spegnere la tv completamente Sì No, 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 no